RITAAAAAAA Scusate, ma che si fa aca la creatura? State tranquilli MARIA RITAAAAAAA RITAAAAAAA RITAAAAA Scusate RIT 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 È un po' secale, famiglia. È un po' secale. Questo è freddo. Questo è sporco. Non ci ha pulito. Domani te lo insegno. Tu sei meglio tutto quanto hai fatto per stare a dove sta, mamma? Ma perché a dove sta, mamma? Ma... Ti devo dire una cosa. Domani là. Domani. M'ho doro. Tu sei davanti da pazza. Per la marotta. Trasin da maghi. Io non faccio più quello che dici tu. Trasin da maghi, vedi? Io me ne vado. Ehi. Ehi. Ma stai a capo a me? No, no. Allora, che stai a capo? Niente. Tu lo sai e io lo so. Tu lo sai e io lo so. Tu lo sai e io lo so. Chi? Che cazzaggio che vado a fare? E questo è nascere. È e RMB8. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. È così. Non d'acqua.